Ecco una notizia stupenda. Cari spettatori di Top 5 News Italia, oggi vi portiamo una notizia sorprendente. Emma Bonino, figura politica di spicco, è finalmente guarita dal tumore che la ha afflitta per otto lunghi anni. Questa notizia è giunta durante un'intervista a Francesca Fagnani, nella terza puntata di Belve su Rai 2. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare tutte le notifiche tramite la campanella. Grazie. La leader di Europa ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, continuando a lottare per le sue idee e a essere un punto di riferimento per molte persone. Ha condiviso la sua emozione dichiarando «Sono guarita dal tumore dopo otto anni». Questa notizia ha suscitato grande sorpresa e gioia tra i suoi sostenitori. E oltre. Nell'intervista, Bonino ha anche parlato dei rapporti con Marco Pannella e delle sfide che ha affrontato in politica. Ha condiviso il dolore per la rottura del rapporto con Pannella e ha raccontato delle belvate che ha vissuto nella sua carriera politica. Questo ci ricorda l'importanza di affrontare le sfide con determinazione e speranza. Ma quali sono le vostre storie di vittoria personale contro le avversità? Condividetele nei commenti qui sotto. Grazie.